Non è stato un film horror, ma la tragica realtà. Il corpo di una donna senza testa, un giovane viado in stato confusionale e sporco di sangue è rifugiato nel bagno di un appartamento. E' questa la scena che si sono trovati davanti i soccorrettori del 118 e Carabinieri questa mattina dopo le 2 in via Antonio Amadeo a Milano, richiamati dalla telefonata di un vicino di casa che, dalla sua finestra, ha assistito alla scena dell'omicidio. Una mattanza a cui il condomino ha assistito sconvolto, ma mantenendo abbastanza sangue freddo da poter chiamare il 112, fornendo preziosa informazione ai Carabinieri. Il vicino ha descritto prima la lite fra i due, poi la scena di un uomo che colpiva la sua vittima con diverse coltellate, 10 segni visibili sul corpo di Antonietta Gisonna, di 51 anni, nata a Napoli ma residente a Milano da decenni. Poi la decapitazione ed il lancio della testa dalla finestra all'interno del cortile della palazzina. Una scena raccapricciante che i Carabinieri, giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto evitare sfondando la porta blindata e arrestando Carlo Giulio Torres Velasca, nel viado di 20 anni, chiusosi sconvolto nel bagno dell'appartamento. Ancora da chiarire le cause che hanno portato all'omicidio, anche se il contesto pare essere una lite nata da questioni legate alla droga. La vittima, secondo i vicini, si prostituiva e aveva anche alcuni precedenti per spaccio di droga.